Musica Risorge da Lazio, crolla in Lecce, un palo con Caccia e poi nulla o quasi nel primo tempo. Nemmeno la grinta, nemmeno la rabbia di chi deve lottare per saldarsi. La squadra di Beretta consegna la gara nelle mani della formazione romana. Non c'è confronto, Lazio padrone del campo, traversa di Zaret e quindi monologo dei Bianco Celesti. Foggia che non si stanca mai di correre, batte così Benussi, decisiva la deviazione dell'ex laziale Stendardo. Non ho il gol è mio. Si dà a lei? Sì, sì, me lo do da solo. Due attaccanti, Pandev e Zarate, due corridori instancabili, Brocchi e Foggia, due centrocampisti di qualità, Matusalemme e Ledesma. Questo modulo funziona. La rete annullata Pandev per fuorigioco. Tiene in piedi una partita che il Lecce stenta a giocare. Il palo di Tiribocchi, il secondo per i Salentini, non giustifica l'anonima scialba prova. Ancora Lazio, scambi disinvolti e conclusioni a rete. Beretta osserva, è triste, preoccupato. Il Lecce oggi non ha offerto sicuramente una buona prestazione. Dobbiamo analizzarle e vedere come mai non siamo riusciti a fare una buona partita, anche perché vediamo comunque da prestazioni positive. Il Lecce è come un pugile che aspetta il colpo del K.O. Non ha la forza per reagire, non ha idee. Kolarov con un'azione spettacolare chiude la partita e il suo primo gol in campionato. Per la Lazio, che torna alla vittoria dopo sei giornate, la crisi è finita? Io non penso che una partita vinta, una partita persa, possa far pensare o una crisi. È un momento particolare, è chiaro che i risultati ti danno grande autostima, soprattutto, però dipende dal gioco, da come vengono questi risultati. Rocchi per Zalate è uno dei cambi della gara. Per la prima volta in questa stagione la squadra di Rossi non subisce rete in trasferta. I numeri dicono anche che il Lecce in casa non vince da ben cinque mesi ed ha una delle peggiori difese del campionato. Cifre allarmanti. La prima volta in questa stagione la squadra di Rossi non subisce la squadra di Rossi non subisce la squadra di Rossi non subisce il nostro corso. Grazie a tutti.